Parliamo di fake. Che cos'è il CICAP? Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Nasce una trentina di anni fa per iniziativa di Piero Angelo e di un bel numero di scienziati e personaggi di cultura. C'erano Margherita Acre, Tali Montalcini, Umberto Eco e tantissimi altri. L'idea è quella di andare a verificare quello che riportano i giornali, la televisione, il internet naturalmente a proposito di notizie al confine tra il vero e il falso che potrebbero rivelarsi dalle bufali. Il nostro cervello ci porta, proprio per come è fatto, a scegliere quelle notizie più sensazionali. Perché ci colpiscono, perché quindi restano più impresse. Ma così facendo tante volte noi cadiamo in errore. Gli errori cognitivi sono tanti. Uno importante è proprio il pregiudizio di conferma. Cioè noi tendiamo a cercare tutto ciò che conferma quello in cui crediamo e a eliminare e ignorare quello che invece va contro. Noi cerchiamo più che smontare le singole bufale, cose che chiaramente dobbiamo fare, cerchiamo di diffondere una mentalità critica. Questo lo facciamo molto nelle scuole, per esempio, ma anche su internet. Quello che cerchiamo di fare è proprio fornire gli strumenti critici. Perché se tutti abbiamo gli strumenti critici, poi non c'è bisogno di qualcuno che ti venga a smontare la bufala. Lo fai da solo. I casi di cui ci siamo occupati con il CICAP nel corso di 30 anni sono davvero tanti. Soprattutto nella prima parte del nostro lavoro riguardavano il mondo del paranormale. Allora qualcuno ricorderà Uri Geller che piegava le forchette e i cucchiaini con la forza del pensiero, diceva lui, e poi invece si è scoperto che erano giochi di prestigio. Qualcun altro si ricorda Gustavo Roll che invece faceva cambiare i colori delle carte da gioco e chissà cos'altro. Pure quelli erano giochi di prestigio. Invece ci sono persone in buona fede che vengono da noi pensando di avere delle facoltà paranormali. Queste persone siccome sono in buona fede e ci credono davvero a questi fenomeni, non si convinceranno mai. Ci è capitato di indagare casi di poltergeist per esempio, spiritelli burloni come si dice, che creavano fenomeni strani. In casa a Milano per esempio c'era un bambino, e questo è il primissimo caso che abbiamo indagato, e in sua presenza cadevano i quadri, si rompevano oggetti, solo quando nessuno guardava troppo attentamente però. Quindi siamo rimasti tre giorni in questa casa e dopo un po' ci siamo resi conto che era il bambino, insomma, quando nessuno guardava a prendere le cose e a tirarle per aria. Ci sono anche fenomeni su cui moltissimi riversano un affetto speciale, come il sangue di San Gennaro a Napoli, o alcuni quando andava la moda delle statuine di madonna che piangevano, ci siamo occupati di quei casi, li abbiamo indagati. Nel caso delle madonne si è scoperto ogni volta che il sangue apparteneva ai proprietari di quelle madonne che semplicemente sporcavano il volto, nessuno mai ha visto una statua piangere, quello sarebbe stato molto interessante. E nel caso di San Gennaro non abbiamo potuto indagare la reliquia originale, ma abbiamo potuto rifare in laboratorio all'Università di Pavia una sostanza che ha un comportamento molto simile, cioè è solida ma quando la si guarda dentro la sua ampolla dopo un po' si trasforma e diventa liquida, usando però non composti chimici moderni ma utilizzando quello che un alchimista avrebbe avuto a disposizione nel 1300 quando questa reliquia fa la sua comparsa. Che cosa dimostra un esperimento di questo tipo? Non abbiamo spiegato il fenomeno del sangue di San Gennaro perché non abbiamo potuto esaminare la reliquia originale, ma abbiamo trovato una spiegazione alternativa che potrebbe benissimo rappresentare la soluzione, ma non ne abbiamo la certezza, perché non si potrà fare un test su quella reliquia, resta il punto di domanda.